Samba, samba! Baila al samba, baila al samba! Ehi là ragazzi! Allora, dato che il carnevale qui in Italia, sì, è già finito, io mi sto preparando per andare al carnevale, po 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 po, di Rio de Janeiro, e quindi sono in procinto di partire. Intanto voi guardatevi le previsioni del tempo e poi ci vediamo a Rio! Previsioni per domenica, in Lombardia cielo nuvoloso o molto nuvoloso, con locali e brevi aperture, temperature comprese tra i 3 e i 10 gradi. In Italia, sino al pomeriggio, generalmente nuvoloso, con deboli nevicate alternate a precipitazioni sulle Alpi centrali e sulla penino settentrionale, stabile altrove. In serata, deboli piogge diffuse ovunque, con neve sui rilievi, temperature minime e massime stazionarie. Sì ragazza, grande! Ragazzi, sono arrivato! Fantastico, dovete venire anche voi, dai venite, venite tutti a Rio a festeggiare il carnevale. Ricordatevi che su Cron TV, come qui a Rio, nel carnevale, splende sempre il sole e divertiamoci fino alla follia! Yeah! BAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAP Grazie a tutti.